Valentina Vignali e Stefano Laudoni Valentina Vignali e Stefano Laudoni, scontro social dopo laddio Valentina Vignali e Stefano si sono lasciati . Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati e questo sembra ormai essere chiaro a tutti. E' stata proprio la cestista a mettere al corrente i propri fan circa la fine della sua relazione. I due sono sempre apparsi molto uniti e innamorati. Il pubblico già aveva compreso che tra loro qualcosa non andava, quando sui loro profili social non venivano condivise più foto di coppia. . Valentina è stata così costretta a rivelare a tutti la fine della sua lunga storia d'amore con Stefano. . Tante sono state le lacrime della Vignali nelle storie di Instagram. Ma le sue parole non sarebbero per nulla state apprezzate da Laudoni. . Quest'ultimo ha deciso, così, di specificare che ciò che è stato detto da Valentina non rappresenta del tutto la verità. . Il Laudoni è stato duramente attaccato dai fan, i quali lo accusano di aver tradito la Vignali. . A questo punto, Stefano ha scelto di condividere anche lui un'adeguata spiegazione sulla loro rottura. . Il Laudoni ammette che in una coppia si sbaglia sempre e per questo non bisogna avere paura di commettere degli errori. . . Secondo Stefano, però, Valentina avrebbe cercato di metterlo in cattiva luce. . . Stefano Laudoni smentisce le parole di Valentina Vignali. . Si sbaglia sempre. . Si sbaglia per rabbia per amore per gelosia, per imparare a non ripetere mai certi sbagli. Queste sono le prime parole del post di Stefano. . Ci sono sguardi che dicono tutto e parole che non esprimono nulla. . . Non è mettendo in cattiva luce gli altri che si acquisisce splendore. Il lungo post si conclude in questo modo. . Ovviamente i commenti negativi non sono mancati per i Laudoni. . Questultimo ha così scelto di rispondere alle numerose critiche. . Stefano confossa di non essere andato a letto con nessun'altra donna, come invece traspare dalle parole della Vignali. . In particolare, Stefano non capisce perché si ritrova costretto a passare per uno che va con la prima che gli capita. . . Ed ecco che Valentina risponde a chi la accusa di essersi inventata questo tradimento. . Se lo scritto è perché è così. . . Non necessariamente bisogna andare a letto con una per tradire. . . Ci sono altre sfaccettature. . Valentina Vignali e Stefano si sono lasciati . 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